E soprattutto sono felicissima di vedere come positivamente, con entusiasmo, avete reagito alla notizia della nuova stagione del Paradiso, nella nostra coriconferma, e questa è la dimostrazione che veramente voi avete fatto la differenza. Quindi grazie, grazie per chi ci seguite tutti i giorni, grazie per i tantissimi messaggi che sto ricevendo in queste ore appunto per il rinnovo. Bello, spero che le nuove storie vi piacciono, almeno quanto sicuramente vi piaceranno a noi. Ancora non sappiamo niente, però spero sia così. E a questo proposito, vi anticipo perché in realtà già alcuni di voi mi hanno fatto questa domanda, già prevedo che ne riceverò tante molto simili, non sappiamo ancora molto, sappiamo come voi appunto che c'è stato finalmente un rinnovo ufficiale, che c'è stato un rinnovo biennale, sempre sul Rai 1, e non sappiamo con esattezza quando inizieranno le puntate, e inevitabilmente non sappiamo ancora quali saranno le nostre storie, i nostri destini, perché come è stato l'anno scorso, gli autori stanno scrivendo di pari passo, una volta che hanno appurato felicemente il rinnovo hanno ricominciato a scrivere. Quindi è tutto in work in progress.